Benvenuti su Meteo Giuliaci. Il tempo previsto per questo fine settimana, ossia da venerdì 21 a domenica 23 settembre. A proposito, domenica 23 settembre vi ricordo che in questa giornata accade l'equinozio di autunno. Bene, come sarà questo tempo nel fine settimana? Sarà ancora purtroppo sotto leggi del dominio dell'anticiclone nordafricano che ci sta perseguitando dall'inizio del mese. Solo tra giovedì e venerdì le regioni del Basso Tirreno e soprattutto le isole maggiore saranno sotto l'influenza di un vortice di bassa pressione giunto dal Marocco che martedì ha raggiunto la Sardegna e che ancora sta razzolando in prossimità delle isole maggiore. Ecco allora il tempo previsto, venerdì rovesce temporale, solo isole maggiore anche di forte intensità, le tre gocce stanno a indicare che saranno di forte intensità, sabato bel tempo ovunque con l'anticiclone nordafricano a parte dei rovesci temporali nel Trivenito perché passa una perturbazione in arrivo dalla Germania diretta verso i Balcani, bel tempo ovviamente sul resto dell'Italia, domenica bel tempo ovunque. Per quanto riguarda le temperature ovviamente sapete come va a finire con l'anticiclone nordafricano e quindi temperature ancora al di sopra della media, anzi siccome tra sabato e domenica l'anticiclone si rafforzerà probabilmente le temperature potrebbero guadagnare anche un grado, quindi temperature massime quasi ovunque tra 27 e 30 gradi e con qualche punta di 31 sulle miglia Basso Veneto, interna Toscana, Umbria e Puglia. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Glioliacei.